Un saluto a voi tutti, gentili amici, bentrovati a questo momento dedicato all'informazione per quanto riguarda il territorio del Lodigiano. Apriamo parlando di laici di azione cattolica nel rinnovamento missionario delle comunità. È il tema affrontato questa mattina al seminario Vescovile di Lodi da Don Massimo Orizio, assistente regionale dell'Azione Cattolica Lombarda, durante la mattinata di aggiornamento del clero alla quale ha partecipato anche il Vescovo Monsignor Maurizio Malvestiti. Dopo l'introduzione del Presidente dell'Azione Cattolica Diocesana, Giuseppe Veluti, che ha messo in luce alcuni interrogativi, ad esempio quale contributo possa dare l'Azione Cattolica nelle parrocchie di fronte alle sfide odierne e come possa essere un'esperienza formativa per i laici. Don Massimo Orizio, assistente regionale dell'Azione Cattolica Lombarda, si è soffermato sul tema scelto per la mattinata di aggiornamento del clero Lodigiano, laici di azione cattolica nel rinnovamento missionario delle comunità, delineando le linee progettuali che sta perseguendo l'Azione Cattolica e soffermandosi sul rapporto presbiterio-laicato e sulle prospettive pastorali che la presenza dell'Azione Cattolica può generare nelle chiese locali. I laici di azione cattolica sono persone che, consapevoli della loro dignità e del fatto di essere protagonisti, spendono energia e tempo, risorse, capacità, carismi personali per far crescere sempre di più la comunità cristiana e la Chiesa come segno di quel regno di Dio che il Vangelo ci racconta che è poi stato il motivo per cui Gesù è venuto ad annunciare la sua parola. Come possono contribuire che il tema appunto di oggi è al rinnovamento missionario della comunità? Hanno un ruolo fondamentale, sempre più riconosciuto per un motivo molto semplice, anzi per due motivi. Il primo motivo è sicuramente il fatto che il clero non riesce più a rispondere a tutte le necessità, le esigenze che la vita odierna comporta. Il secondo luogo è che viviamo in un contesto pluralistico, viviamo in un contesto sempre più laicale, a volte anche laiciste, in cui c'è bisogno di raccontare e dire il Vangelo non più utilizzando la grammatica clericale ma la grammatica della vita. E nessuno come un laico, un padre, una madre, un figlio, insomma, che vive la vita quotidianamente può raccontare come lui riesce a incarnare il Vangelo dentro le dinamiche della storia in questa prospettiva multietnica e culturalmente diversa rispetto a tempo fa. Una nuova evangelizzazione di cui i lacci sono sempre più protagonisti? Direi proprio di sì, anzi, non solo una nuova evangelizzazione ma direi anche una capacità di incarnare il Vangelo, il messaggio di Gesù, secondo categoria, secondo stili, secondo dinamiche, secondo prospettive, ecco, sempre più aderenti a quella che è la vita, i tempi, lo stile, il ritmo delle persone di questi giorni. Per raccontare il Vangelo oggi occorre davvero intercettare linguaggi, tempi e momenti che siano consapevolmente riconosciuti anche da tutte le persone. La Caritas Lodigiana cerca volontari per la raccolta alimentare che si svolgerà nella giornata di sabato 17 ottobre a favore di tutti gli enti accreditati presso il Centro di Raccolta Solidale. La raccolta dei prodotti alimentari avverrà nei centri commerciali che aderiranno a questa iniziativa. targata Caritas. Ogni mese, ricordiamo, sono oltre 2.000 le famiglie che vengono accompagnate dal Centro di Raccolta Solidale. Per aderire come volontario occorre mettersi in contatto con la segreteria della Caritas Lodigiana che si trova in via Cavour a Lodi. Passiamo ad un altro argomento e ci spostiamo a Cremona dove oggi, nella locale sede del Comune, è stato sottoscritto un protocollo di intesa per la collaborazione e promozione tra enti dei territori lungo il Po. Oltre all'amministrazione comunale di Cremona erano presenti il sindaco di Piacenza e di rappresentanza del territorio dell'Odigiano al presidente della provincia. A Cremona, nella suggestiva sala dei quadri, la locale amministrazione comunale con quella di Piacenza e la provincia di Lodi in rappresentanza di comuni lodigiani interessati, hanno siglato un protocollo per il rafforzamento della collaborazione per lo sviluppo e la promozione dei territori lungo il fiume Po. Un documento importante è stato sottolineato in sede di presentazione che rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra enti e nello specifico nella valorizzazione di un ambito tra i più importanti caratteristici quali quelli del territorio interessato dal passaggio del fiume Po. Un documento è stato aggiunto che ha concretezza. Di concreto comporta che il territorio della provincia di Lodi, quello di Cremona e di Piacenza si danno degli strumenti comuni sia per quanto riguarda la tutela del paesaggio sia per la individuazione delle iniziative di valorizzazione turistica e di fruibilità lungo l'assa del Po. Per cui l'uniformità dei progetti e degli strumenti che le istituzioni devono messere in campo avrà come comune denominatore la valorizzazione del fiume Po. Quanto è importante tra enti territoriali di questo tipo la collaborazione? La collaborazione è essenziale, è nelle corde delle istituzioni, non ci si limita a guardare i propri confini ma soprattutto se si prende sott'occhio l'asta del Po si capisce che non ci si può limitare a dei confini istituzionali. Di conseguenza si trova una collaborazione più stretta tra la realtà. Qual è il valore aggiunto che la provincia di Lodi propone in questo accordo per la valorizzazione dell'asta del Po e del territorio coinvolto in questo progetto? Noi negli ultimi anni abbiamo avuto investimenti significativi sulla rete ciclabile, sulla navigabilità del fiume e abbiamo l'elemento centrale del guado della via Francigena. Per cui sono questi gli elementi insieme alle tradizioni enogastronomiche dell'Odigiano che noi mettiamo sul piatto per valorizzare insieme agli altri territori questa grande risorsa rappresentata dal fiume. Mettersi in gioco, questo è il tema della seconda edizione di Kaleidoscopio Fest, organizzata in occasione della giornata mondiale della salute mentale da alcune realtà lodigiane impegnate nell'offerta di servizi di cura alle persone che vivono situazioni di disagio. Oggi pomeriggio presso la sede della cooperativa Famiglia Nuova si è parlato di adolescenti e servizi di fronte alle nuove sfide educative tra normalità e trasgressione. Avvicinare il grande pubblico e le istituzioni al tema della salute psichica. Le associazioni curiosamente Cooperativa Famiglia Nuova, Comunità Oceano e Centro di Psicologia e Psicoterapia Noesi propongono fino all'11 ottobre a Lodi la seconda edizione di Kaleidoscopio Fest. Ha l'obiettivo di aprire le porte alle persone, quindi andare al di là della barriera più istituzionale in cui si parla normalmente di queste tematiche, per fare cultura, creare informazione e creare condizioni di maggiori parità tra chi è portatore di fragilità, che siano le famiglie piuttosto che le persone stesse che ne soffrono, e le persone che si devono occupare di cura. Il filo conduttore di tutte queste nostre manifestazioni e degli eventi di quest'anno è stato proprio quello del mettersi in gioco, questo è il sottotitolo della manifestazione, mettersi in gioco nel senso di provare a pensarsi tutte come persone un po' protagoniste della propria vita. E nel corso di Kaleidoscopio Fest si è parlato presso la sede della Cooperativa Famiglia Nuova di adolescenti e servizi di fronte alle nuove sfide educative tra normalità e trasgressione. La trasgressione è un po' la trasgressione tipica dell'adolescente, quindi il provare a testare il limite e il provare a vedere fino a che punto ci si spinge prima che ci sia l'intervento dell'adulto. La trasgressione è per esempio il consumo della sostanza, ma nel momento in cui il consumo della sostanza è di tipo problematico, ovvero risponde a un bisogno che non è possibile esplicitare o affrontare in un'altra maniera, può portare anche allo sviluppo di condotte devianti e a volte anche portare un po' i germi in sé di un comportamento patologico. Altri comportamenti possono essere gli agiti sessuali di rischio, possono essere anche semplicemente la guida di un motorino pericolosa, laddove la trasgressione ha dei tratti autolesivi soprattutto, può essere interpretabile anche come dimatrice psicopatologica. Si cercano delle risposte da dare? Assolutamente sì, perché come territorio ci stiamo rendendo sempre più conto che ci sono dei vuoti tra i servizi legati al fatto che emergono dei nuovi bisogni, i ragazzi hanno bisogno di essere accompagnati, meglio dire, i ragazzi hanno bisogno di essere accompagnati in maniera differente. Sempre più emerge l'esigenza di trattare il tema dell'adolescenza osservando e leggendo in maniera opportuna i segnali e le richieste di aiuto che i ragazzi mandano attraverso anche agiti trasgressivi. Torna alla Biblioteca Allaudense il corso di robotica educativa rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Sabato prossimo dalle 10 in biblioteca prova laboratoriale gratuita per i ragazzi di età compresa tra i 7 e i 15 anni. Coniugare il gioco con l'apprendimento. Torna alla Biblioteca Allaudense il corso di robotica educativa. 10 lezioni al costo di 130 euro rivolte ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Un'occasione per avvicinare i ragazzi alla robotica e alle tecnologie della comunicazione digitale applicate alla robotica. È un corso di robotica educativa, è la seconda edizione, abbiamo proposto uno lo scorso anno un po' come esperimento, i bambini hanno risposto molto bene. Sono 10 lezioni in cui i bambini imparano a dare istruzioni a un robot affinché faccia quello che loro vogliono che lui faccia. È un corso che permette di sviluppare abilità logiche e deduttive attraverso il gioco che è un po' la base della robotica educativa. Si rivolge ai bambini dalla terza elementare fino a non c'è età, tant'è che negli Open Day, questo lo proponiamo questo weekend. Spesso sono proprio i papà e le mamme che chiedono di poter partecipare al corso. È stato inserito anche nel diritto allo studio, quindi le scuole possono scegliere diversi tipi di corso in base all'età e al ciclo scolastico, proprio per far approcciare i ragazzi a questa logica di programmazione ad oggetti che sviluppa proprio le abilità logiche di competenza. Abbiamo parlato di una prima edizione che è andata bene. È andata molto bene, i bambini sono entusiasti. Lo scorso anno erano una decina di bambini, contiamo di replicare e magari di allargare l'età anche con il corso avanzato che è rivolto o ai ragazzini delle medie o a chi ha già fatto un corso base. L'obiettivo è quello di provare a creare una squadra che poi partecipa alle competizioni regionali, prima di tutto e nazionali, proprio di robotica educativa. Queste competizioni si svolgono dando un compito ai bambini attraverso una storia e lo devono assemblare e programmare un robot con unilego che sono la base di questo corso per vincere la competizione e arrivare per primi. Che tipo di bisogno di richiesta intercetta questa proposta? Dei bambini che sono nativi digitali, il termino ormai corretto da utilizzare è questo, che quindi hanno una curiosità per tutto ciò che è programmabile, che è digitale, se movente mi viene da dire, che è veramente molto alta. Quindi passa quello che è un po' l'educazione e la cultura anche dalla cultura del digitale, che se lasciata a sé stante non ha controllo, quindi più che un divieto, un uso consapevole della tecnologia e di tutto quello che comporta. Questo nostro spazio dedicato all'Odigiano si conclude così. Ringrazio voi gentili amici per averci seguito e ci vediamo domani. Grazie a tutti i nostri amici.